Buongiorno, la richiesta che mi è stata fatta è di raccontarvi delle cose e poi introdurre questa doppia parte di interventi e di tavola rotonda. Stavo pensando che in qualche modo un giornalista che parla è un po' anomalo e poi mi sono consolato. Siamo un po' dalla stessa parte giornalisti e consulenti, ci chiamano quando le cose non sono normali o forse quando vanno male e forse questo è connesso con una certa, se mi consentite, impopolarità delle categorie che ci salva dal punto di vista della nomea il fatto che poi ci sono banchieri e politici che hanno a loro volta un'etichetta non sempre precisamente apprezzata nella popolazione. Però queste cose ci accomunano ma le cose che ci separano sono molto più importanti. Primo come è stato detto dalla ricerca da Colucci, per voi le cose vanno bene, siete usciti dalla crisi, aumentano i prezzi, il fatturato e l'occupazione, mi sembra stupendo, mentre per noi giornalisti le cose sono come prima e forse se ci venite a dare qualche opinione, magari, non so, visto che la volete dare mille giornate allo Stato che non sembra così tanto voglioso di averle, cominciate a darle a noi e poi vedremo. A parte questo, l'altra cosa veramente che ci differenzia è che voi date delle risposte, noi se ci va bene siamo capaci di fare delle domande, quindi perdonatemi se invece di occupare tutto questo tempo che era previsto di mezz'ora per una mia introduzione, lo farò un po' di meno così siamo anche tutti contenti e sentiremo più tempo degli interventi delle persone che sanno di che cosa parlano, io posso semplicemente riassumere le risposte che ho avuto facendo un sacco di domande in giro e se dovessi fare un titolo a questa questione dello Stato dell'arte della digitalizzazione vorrei dire che in questa dimensione di ragionamento non si dovrebbe parlare tanto di crisi, la crisi l'avete raccontata voi, è una cosa che finisce quando comincia la ripresa ed è una crisi dal punto di vista etimologico, è una crisi che separa il buono dal non buono insomma, questa è la crisi, separare il grano dall'olio, quelli che sono grano vanno avanti e funzionano bene, la crisi finisce quando comincia la ripresa, quello che stiamo vivendo secondo me è una crisalide c'è una cosa che finisce quando ci siamo trasformati, quando siamo entrati in una fase, in questa fase eravamo convinti in qualche modo che le cose fossero comprensibili e che il business as usual fosse gestibile ne usciamo con l'idea che il futuro è particolarmente meno chiaro di quello che ci sembrava all'inizio se volete l'idea di rischio è cambiata, mentre prima gestivamo ciò che sappiamo di non sapere può succedere questo o questo, non so quale dei due succeda, mi preparo a quello che significa il fatto che succeda una cosa o l'altra mentre oggi il problema è che ci troviamo di fronte a organizzarci in modo tale da poter gestire o far fronte a ciò che non sappiamo che di non sapere, perché la concorrenza viene da settori imprevisti perché i cambiamenti vengono da idee e punti di vista che non tenevamo d'occhio non sappiamo ciò che non sappiamo succederà questo perché sta cambiando il paradigma, sta cambiando il contesto e il contesto sta cambiando per motivi molto importanti relativi a questo avvento di un'epoca che chiamiamo epoca o economia della conoscenza abbiamo smesso di parlare di economia post-industriale perché ci siamo resi conto che ormai questa è un'epoca che ha un nome suo si chiama epoca della conoscenza nella economia della conoscenza il valore si concentra sull'immateriale ciò che produciamo di materiale è il mezzo di trasmissione di conoscenza adesso non è che voglio farla troppo difficile ma la concentrazione del valore sulla conoscenza la vediamo quasi dappertutto una maglietta costa un euro a produrla ma la gente la paga 20, 30, 50, 100 euro perché contiene della conoscenza questa può essere immagine, può essere design può essere ricerca, può essere informazione può essere socializzazione è l'immateriale che fa il valore il materiale lo trasporta in questo senso, in questa economia della conoscenza è chiaro che una tecnologia come quella digitale che è fatta per gestire informazione è particolarmente utile è particolarmente contestualizzata ha senso in effetti in questi ultimi 15 anni qualche cosa è successo di clamoroso se volete una statistica vi racconto viene dalla scuola Hannenberg dell'università di California dove Martin Hilbert con una metodologia spericolata calcola quanta informazione viene registrata con quali mezzi nel 2000 i suoi calcoli erano che il 25% dell'informazione globale è registrata in termini digitali nel 2000 il 25% il resto 75% carta, plastica, vinile, bande magnetiche nel 2013 secondo i calcoli di Hilbert il 98% è registrato in digitale che sia perfettamente giusto alla virgola questo calcolo o no poco importa quello che importa è che dal 25% al 98% è cambiato il modo con il quale noi gestiamo l'informazione in maniera radicale e tutti noi abbiamo contribuito a farlo perché non è che questo significhi semplicemente che è andata in crisi la carta dei giornali non è quello che fa la differenza anzi non è che sia diminuita tantissimo quella è veramente aumentata molto la conoscenza che registriamo in digitale ogni anno raddoppia e tutti noi partecipiamo anche quando comunichiamo tra amici registriamo informazione e lo facciamo con una densità con una attenzione con una capillarità straordinaria se noi vediamo che è finita la pila di questo oggetto cominciamo, non so per voi ma per molti di noi a sentirci in ansia c'è qualcosa che ci manca e che cos'è che ci manca? ci manca una specie di protesi perché questo è diventato parte del nostro corpo non lo dico io lo dice la Corte Suprema degli Stati Uniti a un certo punto c'è stato un tizio che ha avuto la search della polizia del suo telefonino e ha protestato e ha fatto causa alla polizia alla fine questa causa è arrivata alla Corte Suprema la Corte Suprema ha detto che la polizia non può fare la perquisizione dentro il telefonino senza mandato perché il telefonino è parte dell'anatomia umana quindi se voi vi raccontate la digital transformation numero uno siamo noi umani che siamo trasformati la crisalide è in pieno funzionamento che cosa uscirà se è una farfalla che è un verme che diventa una farfalla o una farfalla che diventa un verme non lo so però la trasformazione è quella è di quella natura noi ci siamo intanto abbiamo cominciato a trasformarci con questa protesi che naturalmente ha degli effetti fisici materiali sul cervello voi sapete benissimo il cervello non c'è un organismo molto plastico si abitua velocemente alle condizioni di utilizzo del cervello stesso il telefonino ha un effetto preciso sulle strategie di memorizzazione sulla abilità di elaborazione e sulle forme di comunicazione che sono tre cose che il cervello è preposto a fare per quanto riguarda la memorizzazione sappiamo per esempio che le strategie di memorizzazione sono cambiate non ci ricordiamo più non ci sforziamo più di ricordare i fatti ma ci sforziamo di ricordare dove troviamo i fatti allora questo perché poi sono sempre online perché c'è sempre Wikipedia perché c'è sempre qualche cosa che ci aiuta molto velocemente molto direttamente quasi parte di me del mio corpo è parte della mia memoria ma questo è solo l'inizio abbiamo avuto vent'anni di trasformazione gli ultimi quindici tutta la nostra conoscenza il 98 la nostra conoscenza registrata è andata in digitale quindi viene elaborata velocemente viene trasformata velocemente comunicata velocemente a basso costo tutte cose che cambiano fondamentalmente la gestione dell'informazione è chiaro che ne esce un po' di disorientamento è chiaro che esce un sacco di opportunità il disorientamento è per chi subisce e le opportunità sono per chi capisce e quindi se volete questo è il motivo per cui servono i consulenti perché alla fine le aziende devono capire e non subire per cui non mi stupisce che il vostro business stia andando così bene perché non c'è dubbio e adesso questo vado anedoticamente che dieci anni fa la gente che si immaginava un futuro drasticamente diverso era una minoranza oggi no oggi è diventata una larga minoranza se non una maggioranza ero giusto per parlare come deve essere un discorso giornalista un paio di settimane fa a un convegno dove dovevo parlare di architettura dell'informazione e nella platea c'era una trentina di aziende c'era anche un'azienda che fa assi di truciolato di legno pressato e basta che vende alla Ikea più o meno e che vantava un business in crescita molto forte con ottimi profitti e bella solidità aziendale ed era venuta lì la imprenditrice dicendo adesso mi va bene ma fra cinque anni non so come sarà e quindi voglio venire qua e pensare al futuro questo tipo di domanda di futuro è diventato molto più diffuso rispetto a prima perché la sensazione che stia cambiando profondamente qualcosa non è più soltanto dei visionari ma è diventato un'esperienza di tutti quelli che sono in mezzo alla crisalide quindi questo è il compito sia naturalmente di quelli che sanno come si fa cioè voi sia di quelli che riportano cioè noi e in questa trasformazione radicale che evidentemente è complicata da interpretare perché non sappiamo cosa non sappiamo dobbiamo immaginare dobbiamo organizzare l'azienda in modo tale che sia capace di immaginare dobbiamo organizzare la nostra struttura in maniera che possa adattarsi a ciò che non sappiamo che può succedere e questo si può fare ma è che non si possa fare il digitale certamente aiuta ma non come informatizzazione dell'esistente aiuta come leva di trasformazione radicale altrettanto radicale di quanto sta succedendo fuori evidente che nelle HR nelle risorse umane tu non hai più a che fare con degli umani hai degli umani con la protesi che sono abituati al fatto che le comunicazioni sono fatte così e quando entra una struttura gerarchica che gli dice il tuo computer non può fare quasi niente se non quello che gli dico io che può fare si trovano male nella ricerca non è più e lo sappiamo lo sapete molto meglio di me che si fa un laboratorio si fa ricerca e poi si fanno i brevetti oppure ci teniamo il segreto industriale la ricerca è tanto più efficiente quanto più è forte l'ecosistema intorno l'apertura con la quale si elaborano idee che circolano e si portano a servizio dell'innovazione naturalmente tutto questo spiega perché stiamo parlando così tanto di start up cioè le start up sono aziende l'Italia è uno dei campioni mondiali nella nascita di nuove imprese ma di solito erano imprese nuove che nascevano dal saper fare dall'avere imparato a fare una cosa che sotto padrone diciamo così io sono veneto si andava sotto padrone si imparava e poi ci si faceva la propria azienda questo era più o meno il modo con il quale adesso le start up sono tutt'altro sono aziende che nascono senza un fatturato e forse senza la speranza di averlo ma con un'idea che nessuno aveva cercato mai di concretizzare in un prototipo eccetera quindi molte di queste non funzionano non andranno da nessuna parte non avranno successo ma tutte che abbiano successo non abbiano successo accrescono la conoscenza e questo è come la ricerca se non la vediamo come ricerca che l'ecosistema fa per le imprese non capisco in che cosa in che modo la possiamo interpretare queste aziende fanno un prototipo vengono finanziate non dal fatturato ma da chi scommette che quel prototipo possa avere successo e vengono poi indirizzate o a vivere per conto loro perché sono riusciti a fare una business dopo 3-4 anni oppure vengono comprate in una grande azienda che le assorbe nella sua catena filiera di valore e attraverso questa acquisizione innova se stessa quindi ha fatto ricerca comprando questa sperimentazione che la start-up ha fatto là fuori è un modello noto cioè la Cisco non ha che io sappia speso mai molto in ricerca però è una delle aziende molto innovative perché ha una strategia da 20 anni di acquisizione di start-up fatta in questa maniera organizzata in questo modo e poi tutta questa digitalizzazione il 98% dell'informazione registrato ha una quantità di conseguenze sul modo in cui noi ci interfacciamo con l'ambiente nel quale siamo inseriti che oggi chiamiamo infosfera perché è un ambiente arricchito dai dati arricchito dai sensori arricchito dalle telecamere che ogni volta che ci muoviamo per strada ci riprendono l'infosfera è l'ambiente arricchito da tutta questa profonda registrazione digitale di tutto i sensori che registrano temperatura umidità variazioni eccetera sono parte del business il sistema Trentino per fare il vino con alta efficienza e riduzione dei rischi è interessante hanno messo 200 centraline con sensori di umidità temperatura pressione e quant'altro che mandano i dati al computer centrale che prevede quando arriva la gelata valletta per valletta e manda un sms direttamente al contadino per dirgli sta per arrivare la gelata fra mezz'ora vai a coprire l'uva questo tipo di cose si generalizzano le automobili che si guidano da sola con guida assistita a loro volta sono telecamere su tutto l'ambiente sono radar sono sensori che si scambiano informazioni con la scatola nera le registrano e in certi casi secondo certe architetture le mandano a un computer centrale che a sua volta elabora non è che i big data siano solo google e facebook anche se quelli sono veramente big sono le banche persino un giornale produce parecchi dati tutte le imprese fanno parte di un'infosfera nella quale i dati sono tanti e tutta questa roba di dati non è come i dati che raccoglievamo con i sondaggi prima adesso stavo leggendo di un sondaggio che si accompagnava un po' e lo volevo citare con i dati ottimistici che ha portato Colucci prima per il vostro business e leggevo il titolo della società di sondaggi ISE I-X-E sono quelli che avevano fatto la SVG che sono usciti dalla SVG perché è stata comprata da un altro e hanno fondato una nuova società di sondaggi che si chiama ISE sono di Trieste quindi vuol dire ISE contenti ISE buoni ISE ottimisti ISE cosa? ISE fiduciosi dicono aumenta la fiducia degli italiani il 28% sono fiduciosi nel futuro dell'economia uno va a leggere la loro stessa ricerca e scopre che il 72% non è fiducioso e pensa che non usciremo mai dalla crisi io penso questo gioco dei titoli l'ho trovato particolarmente simile a quello che facciamo noi giornalisti ma sta di fatto che il cambiamento è ancora insomma in corso voi siete degli anticipatori si è detto addirittura che il vostro business anticipa quello che succede agli altri secondo me lo anticipa se e solo se quello che voi fate insieme a tutto il resto del sistema di elaborazione dell'informazione della conoscenza va nella direzione della trasformazione se va semplicemente nella gestione dell'esistente temo che abbia breve durata questa ripresa la ripresa può avere la ciclicità che ha non ci sono dubbi che in un momento in cui il petrolio è basso l'euro è basso la BCE stampa moneta se non facciamo ripresa adesso non so quando è che la facciamo però il punto è che bisogna cogliere questo momento negativo momento positivo per accelerare questa trasformazione perché la trasformazione sta nei fatti nella trasformazione del corpo umano dell'ambiente che è diventato un'infosfera nel fatto che offre tutti questi dati che vanno analizzati non a sondaggio ma a raccolta di pattern e che offrono la possibilità di codisegnare in continuo feedback con le relazioni che ci sono con il mercato nuovi servizi nuovi prodotti nuove cose ci sono un sacco di fenomeni importanti che stanno succedendo questi sensori possono stare nell'ambiente a fare centraline della questione della gelata in Trentino ma possono andare nei prodotti più diversi noi siamo come sappiamo trascinati nelle esportazioni da alimentare arredamento abbigliamento automazione industriale arte nel senso del turismo in questo tipo di produzioni tradizionali la sfida di connettere internet è presentissima la trasformazione di questi prodotti in qualche cosa che è connesso è un fenomeno in questo momento sfidante per un sacco di imprese è chiaro che lì l'immagine pura e semplice del designer dello stilista eccetera ha e tuttora contiene il valore centrale di quelle produzioni ma la sfida di connettere questi oggetti alla rete se effettivamente questo produce valore è lì da studiare e da analizzare non solo per produrre nuovi gadget non solo per inseguire la questione del computer indossabile che manda che registra il battito cardiaco e manda al medico costantemente questa paranoica situazione di monitoraggio ma per costruire cose che non sappiamo di non sapere anche questo è sfida trasformativa se non affrontiamo queste cose ci troviamo come è chiaro nelle condizioni che abbiamo visto recentemente la musica è stata stravolta è stata forse uno dei primi mondi stravolti dalla dall'internet eccetera non solo per la pirateria ma anche per i modi con i quali si vive alla fine ne sta uscendo molto ridimensionata avendo trasformato la sua accettazione la sua adattabilità al contesto non è più addirittura l'adattabilità è dimostrata non soltanto tecnologicamente non si comprano più i cd ma si scaricano queste cose adesso non si scaricano più i brani ma si sentono in streaming e comunque anche un pirata che prende una musica sotto copyright la mette sul suo filmino su youtube se questo filmino piglia trazione e comincia ad andare molto popolare youtube e il detentore del copyright se si sono messi d'accordo non lo bloccano come pirateria ma lo lasciano andare visto che ha molta popolarità e aggiungono la pubblicità e dividono i soldi derivanti da questa pubblicità cioè pragmatismo adattabilità di fronte ai principi sacrosanti che hanno sempre sostenuto quelli della musica è stato l'unica strada con la quale ne stanno un po' uscendo e se vedete oggi la novità di spotify è che non sarà più soltanto musica ma comincia a essere video e allora per nell'attesa che noi stiamo tutto il mondo della televisione sta aspettando netflix tremando intanto spotify che ha già milioni di utenti produce video e questo tipo di cosa è una cosa che non sapevo di non sapere ma arriva come faccio ad adattarmi io sono la rai come faccio ad adattarmi o cambio strutturalmente organizzazione mi trasformo oppure e qualcuno mi deve aiutare insomma voi c'è qualche consulente della rai forza stessa cosa nel turismo nel commercio le banche quest'anno è il fintech year cioè tutto si investe nel fintech tecnologia abbiamo cardamone quindi non mi addentro l'ultima cosa che ho visto è una start up veneta che ha fatto una app che si chiama to pay che serve per pagare con il telefonino non hai una carta di credito ti iscrivi questo app genera automaticamente un IBAN le cui ultime cifre sono le cifre del numero di telefonino da quel momento in poi nella app tu hai un IBAN e quindi gli bonifichi delle cose oppure da qui bonifichi fuori delle cose e tra gli to pay si pagano senza commissioni a meno che non sia un merchant che avrà da pagare 0,02% della transazione insomma cose molto competitive con le carte di credito io non lo so dove andrà a parare to pay so che quella è un esempio minimo di un fenomeno gigantesco il massimo del venture capital in questo momento sta andando in questo fintech l'idea di disintermediare le banche eccetera tutto questo si insomma significa che i 6 miliardi che le banche italiane spendono ogni anno in digitale non possono rimanere gli stessi 6 miliardi di prima non è che possiamo continuare a comprare bulloni di software per costruire fabbriche di software per produrre informaticamente le stesse cose che si facevano prima e forse proprio per essere di parola col fatto che non ho voglio usare tutto il tempo che mi si era chiesto di usare perché i giornalisti non hanno da insegnare ma fare da domande e trovo che c'è giusto qui Cardamone che ha un'esperienza sulla banca del futuro passerei la parola a lui e a Elena Agnello che invece è Brand Strategic Marketing Director di ArtSana che evidentemente si occupa del nostro corpo e di questo corpo che si sta trasformando di ArtSana che si ha un'esperienza